Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Mirko e questo è un nuovo video. Oggi siamo qua per un nuovo video unboxing e in particolare si tratta di una bookish box che, come vedete dal titolo, è la Illumicrate. Questa è la Illumicrate del mese di giugno, se non vado errato, cioè se ho calcolato bene i tempi dovrebbe essere quella di giugno. Sono sicuro che ormai la conoscete, ma se non sapete di cosa si tratta, la Illumicrate appunto è questa bookish box dove mensilmente abbonandovi ricevete a casa questa box con all'interno vari gadget a tema fandom e il libro del mese che ha un tema. Vi vengo veramente tantissimo a ringraziare la Illumicrate per questa box, sotto appunto vi lascio sia il link al sito della Illumicrate se siete interessati a prenderne una e anche il profilo Instagram dove potete seguire mensilmente tutti gli aggiornamenti sui vari temi che vengono svelati, su vari spoiler degli oggetti e del libro contenuti all'interno della box, quindi sotto nell'info box trovate tutto. Non ricordo esattamente il nome del tema di giugno, ma ho una mia teoria per quanto riguarda il libro del mese che è una uscita che io aspettavo tantissimo. Secondo la mini descrizione che Illumicrate aveva dato di questo libro, ecco, ho fatto i miei collegamenti e tutto torna verso quel libro. Quindi adesso andiamo a vedere se effettivamente sarà così e andiamo ad aprire. Devo dire che è abbastanza pesante, cioè è consistente, quindi vedremo che cosa c'è all'interno. Allora, prima di tutto abbiamo la Spoil Card. Questo è il tema del mese, In the Shadows, con questa grafica blu e oro che trovo meravigliosa. Sono due colori bellissimi e appunto è la Spoil Card con all'interno tutti i gadget che troveremo, il libro del mese, quindi poi la prenderemo alla fine e andremo a vedere le varie cose. Per quanto invece riguarda il tema di luglio sarà We Are The Resistance. Mi immagino una box molto a tema distopico. A parte questo, comunque adesso andiamo a vedere cosa c'è nella box di giugno. Leviamo come sempre la carta e la prima cosa che vedo è una tazza, un'altra tazza di quelle che io amo follemente. Il fandom di questo mese, che adesso non ricordo, però mi piacevano particolarmente, soprattutto alcuni di loro. E questa appunto è la tazza, sempre disegnata da Rosy Thorn88. Il Lumiket fa molto spesso queste tazze che io trovo meravigliose. Ho quella di Throne of Glass e quella di Akotar. E quindi adesso andiamo a vedere cosa sarà questa. Tutto sui toni del rosso e del bianco. Non riesco a capire che fandom sia. Questa appunto è la tazza che è molto molto bella. Mi piace tantissimo, ma come ogni illustrazione che c'è su queste tazze io le adoro follemente. Sono qualcosa di stupendo. Andremo a vedere alla fine di che fandom è. Comunque è molto bella, mi piace un sacco, però non mi viene in mente nessun romanzo del genere. Ci sono dei cortelli, boh non so, probabilmente non l'ho letto. Adesso comunque vedremo. Proseguendo abbiamo altra carta che non ci interessa. Vedo, ho visto già il libro del mese ed è quello che pensavo. Non vedo l'ora di vedere l'edizione, ve lo giuro. Comunque adesso passiamo ad altro. Ragazzi, cioè possiamo un attimo parlare di questa cosa. Possiamo un attimo fermarci su questa cosa meravigliosa. Ispirata ovviamente a Game of Thrones. E sono tutti i nomi della lista di Arya Stark. Io non ho parole. Tanto di nomi cancellati è tipo uno dei miei oggetti preferiti ever all'interno di una box. Cioè non so che cosa ci farò perché appunto è un panno, quindi non lo so, però è bellissimo. Cioè io vorrei farci un quadro con questa cosa. Cioè stiamo guardando? È stupendo. Bellissimo. È diventato il mio oggetto preferito e credo che prima era tale. Andando avanti abbiamo una pin ispirata al libro del mese, quindi adesso ve la faccio vedere. Ha questo stemma molto bello in oro, bianco e nero, ma esattamente non so a che cosa si riferisca, quindi non so. Poi non è finita qua, ce ne sono ancora tanti di gadget. Passiamo a questo, che è un ventaglio. Non ho mai avuto un ventaglio in tutta la mia vita. Arriva la Lumicrate e eccoci. Sicuramente è un oggetto molto utile, visto il periodo, però non so quanto lo utilizzerò. Andiamo a vedere di che fandom è. I am the war, you cannot win. Questo secondo me è ispirato a Nevernight. Sì, anche perché c'è il pugnale di mia, quindi per forza. Ci sono rimasto un po' male, c'è un oggetto dedicato a Nevernight ed è un ventaglio. Cioè, carino, eh, però l'utilità di questa cosa, per quanto mi riguarda, è, cioè, dal mio punto di vista, è un po' nulla. Però, ok, carino. Poi abbiamo un segnalibro. Segnalibro che è ispirato, credo, da questa fan art. È un libro che non ho letto, ma se non sbaglio è Serpent and Dove. Ormai le fan art dei personaggi ce le ho, tipo, registrate in testa. Questo è il segnalibro. Molto, molto bello, tra l'altro. Si tratta di un materiale strano, non so, è metallo, probabilmente, con la fan art molto bella. E dietro c'è, appunto, una citazione al libro che io non vedo l'ora di leggere. Molto, molto bello, mi piace un sacco questo segnalibro. Ecco, questo poteva essere l'oggetto dedicato a Nevernight, invece no. Ok, siamo arrivati, quindi, al libro del mese. Mancano solamente una postcard dedicata al libro e qualcos'altro che adesso andremo a vedere. Vi giuro che l'edizione già c'è, ragazzi. Wow. Partiamo subito con il libro del mese per contestualizzare, appunto, le fan art, quello che vediamo dopo. Il libro del mese, come pensavo, è lui, The Court of Miracles, di Kester Grant. Questa, appunto, è un'edizione esclusiva per il Lumicrate, che è, ragazzi, qualcosa di fenomenale. Qui di fianco vi lascio la copertina originale, che è altrettanto bella, ma questa è incredibilmente bella. Abbiamo, appunto, le pagine nere che io adoro, tipo un fetish per le pagine nere, sono bellissime. È, appunto, firmata dall'autrice all'interno. Sotto la copertina è ancora, se possibile, più bella della copertina normale. Cioè, ragazzi, il contrasto nero con questo bronzo rosato è fenomenale, è stupendo. È qualcosa di incredibile. Wow. Davvero senza parole. È un'edizione pazzesca. Una delle cose più belle che ho visto in questa prima parte del 2020. Ci sono anche delle cose all'interno del libro che credo che comunque siano anche nell'edizione normale, ovvero abbiamo la cartina di Parigi. E abbiamo, appunto, anche le varie gilde della Corte dei Miracoli. La storia è ambientata in questa Parigi, dove la rivoluzione è andata a buon fine, e si sono create queste gilde, questa sorta di gruppi di criminali che, appunto, lavorano nei bassi fondi di Parigi. La trama mi intriga tantissimo. Io ho paura a leggere questo libro, perché spero vivamente non sia una delusione. Si vocifera, dovrebbe arrivare anche in Italia prossimamente. Questa edizione è incredibile, incredibile. Comunque, a parte questo, abbiamo anche altre due cosine. Prima è la lettera da parte dell'autrice. Eccola qua. Molto carina, tutta schiacciata. Dietro abbiamo la copertina dell'edizione delle Lumicrate, però con colori diversi. Anche questi molto belli. E per finire abbiamo una fanart, che è wow. Mi ricorda molto Akotar. Non so perché abbia le ali. Forse non ho capito bene che cosa succederà in questo libro, non lo so. Resta il fatto che è meravigliosa. Oppure, probabilmente, effettivamente, questo non è dedicato al libro, ma è una card di Akotar. Perché se non sbaglio ci doveva essere qualcosa di Akotar. Adesso andiamo a vedere la spoil card. Comunque, bellissima. Ok, passiamo quindi alla spoil card. Cominciamo dalla tazza, che io non avevo fatto i giusti collegamenti, perché io questo libro l'ho letto. Infatti, è ispirata a Vicious, di Victoria Schwab, con Eli, Victoria, eccetera, eccetera. E ora, devo dire che l'apprezzo molto di più. Non avevo, vi giuro, fatto i collegamenti, ma adesso tutto mi riporta. Ammetto che, sapendo di che fandom fa parte, ora mi piace nettamente di più. Comunque, era bello a prescindere perché, ripeto, questi artwork, secondo me, sono fenomenali. Il fantomatico ventaglio, che in questo momento mi è molto, molto utile, è ispirato, appunto, come avevo detto, a Nevernight. Comunque, vi giuro che probabilmente è la cosa più utile che abbia mai trovato in una box in questo momento, perché fa caldo. Quindi, sì, potrebbe rivelarsi utile in questa estate, devo ammetterlo. La stampa non era dedicata a The Court of Miracles, nemmeno ad Akotar, però ha un altro libro della Mass, ovvero Crescent City. Non l'ho ancora letto, sta di fatto che è meravigliosa, è veramente, veramente bella. Io poi, quando vedo cose in oro, metallizzato, cioè, è un pazzisco, è bellissimo. Poi abbiamo, appunto, il segnalibro di Seth and Dove, che mi piace davvero, davvero tanto, anche se è uno degli oggetti che ho preferito in assoluto. Il mio oggetto preferito è dell'intera box, che qui dice essere, appunto, una tovaglietta da te, ma è tipo una tovaglia per un tavolo da quattro persone, quindi, non so, effettivamente, sta di fatto che davvero è il mio oggetto preferito. È bellissima, la adoro, è The Care List, è bellissima, è veramente stupenda, la amo. Voglio veramente un quadro con questa cosa. E poi, appunto, abbiamo il libro bellissimo del mese, con questa edizione speciale della Lumicrate. Filla collezionabile, perché ogni mese, da quanto ho capito, ci sarà una sfida diversa in collaborazione con Fable in Black. Questa, appunto, è ispirata al motto della Corte dei Miracoli. E, infine, vabbè, abbiamo la lettera da parte dell'autrice. Una box bellissima. Mi è piaciuta tantissimo questa box, credo che sia una delle box, delle Lumicrate, che ho davvero preferito. Praticamente tutti gli oggetti mi sono piaciuti. Lui, in modo particolare, cioè, è bellissimo. L'edizione di questo libro è qualcosa di sconvolgentemente bello, quindi, wow. Sono molto curioso di leggerlo, sicuramente sarà una delle mie prossime letture, perché voglio sapere quanto grande sarà questa delusione. Non parto con aspettative alte, non devo, però sono molto curioso. Questo è quanto. Abbiamo aperto la box del Lumicrate di giugno. Io spero che questo unboxing vi sia piaciuto. Fatemi sapere qual è stato il vostro oggetto preferito e se l'avete preso anche voi, perché questo mese era davvero molto, molto bello. Cioè, mi è piaciuta davvero tanto. Ora vorrei solamente chiudere il video e andare a leggere The Court of Miracles. Cioè, mi è cresciuta la voglia di leggerlo. Lo sto guardando e vorrei solamente leggerlo. Spero che il video vi sia piaciuto. Ripeto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi! Ciao a tutti!